Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La gloria del Signore si manifesta in mezzo ai Suoi figli attraverso i Suoi discepoli, i Suoi apostoli, che Gesù ha provveduto alla Sua Chiesa e che in ogni epoca il Signore suscita in mezzo a noi. Vogliamo dare l'ode al Signore con le parole del salmista, lo Salmo 98. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. «Acclame il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni, cantate inni al Signore con la cedra, con la cedra al suono di strumenti e a corde, con le trombe al suono del corno. Acclamate davanti al Re, il Signore». Fratelli, la fede si è diffusa nel mondo per opera degli Apostoli. Gesù, durante la sua vita terrena, pur accostando le folle, spendeva tanto del suo tempo alla formazione dei suoi discipoli. Oltre ai dodici, una volta ne chiamò a settantadue e li inviò a due a due, perché andassero in città e villaggi, dove lui stava per recarsi, per preparare la sua venuta, ma dandole anche il potere di guarire i malati e di cacciare i demoni. Fra questi non sappiamo se ci sia stata anche San Barnaba, di cui oggi la Chiesa celebra la festa. Nelle reate degli Apostoli si parla di Barnaba, che aveva un campo, lo vendette, e depositò l'importo ai piedi degli Apostoli. Era un uomo giusto, pieno di fede e pieno di Spirito Santo. E quando gli Apostoli venivano a sapere che all'Antiochia, di Siria, si stava diffondendo la fede e mandarono Barnaba come ispettore, come vescovo a indagare, non solo, ma anche a guidare la crescita di quella Chiesa. E lui pensò di farsi aiutare da un neoconvertito, che era San Paolo, il quale si era ritirato a Tarso e San Barnaba lo andò a trovare e lo portò con sé ad Antioche. E insieme, per un anno intero, i due lavorarono assieme, quando lo Spirito Santo, lo leggiamo nel XIII capitolo degli Atti degli Apostoli, mentre la comunità pregava e digiunava, disse di mettere da parte Paolo e Barnaba per una missione che aveva loro affidato. O la comunità pregò, chiese luce e alla fine impose le mani ai due Apostoli e li inviò ad annunciare il Vangelo. E abbiamo così il primo viaggio missionario di San Paolo, accompagnato da Barnaba, accompagnato anche da Marco. E loro predicavano ai Giudei sparsi, a Cipro, poi in Asia minore, ma non si fermavano a loro. Andavano anche dai pagani. E tanti pagani si convertirono. E al loro ritorno, quando tornarono a Gerusalemme degli Apostoli, riferirono quanto il Signore aveva fatto per mezzo di loro, in mezzo ai pagani. Tanto che San Pietro ordinò una riunione dei pastori della Chiesa Primitiva e ci fu quello che noi chiamiamo il primo concilio di Gerusalemme. Per discutere questa verità, meglio questa questione, se i pagani convertiti dovevano a loro volta praticare le leggi e le norme mosaiche o bastava soltanto per essere cristiani aderire con la fede a Gesù Cristo. E in quell'occasione, sappiamo bene, lo leggiamo nel quindicesimo capitolo degli Atti degli Apostoli, gli Apostoli decisero che i pagani convertiti non erano tenuti a praticare le leggi mosaiche, ma di astenersi dagli animali soffocati, dall'impurità, dai cibi sacrificati agli idoli, perché appunto gli ebrei erano dappertutto e per evitare questioni e litigi si astenessero per carità quindi da queste cose. Ecco l'Apostolo Barnaba. All'inizio secondo viaggio missionario San Paolo e San Barnaba ebbero un desidio tra loro perché durante il primo viaggio missionario Marco li aveva abbandonati, forse perché era ragione, forse perché era un esperto, ma li aveva abbandonati, per cui Paolo decise di non portarlo più con sé per non avere problemi. Allora non c'erano i mezzi di comunicazione che abbiamo adesso per cui si poteva facilmente tornare indietro. San Barnaba invece accettò di portarla con sé. Allora loro divisero le loro strade e negli Atti degli Apostoli non abbiamo altre notizie di San Barnaba, ma una cosa è certa, una cosa è certa, era piena di potenza e di Spirito Santo, cambiava i cuori e tanti arrivavano alla fede per mezzo di Lui. Or quando Gesù mandò il 72 ad annunciare il Vangelo, detto questa ingiunione, non passate di casa in casa, ma prendete alloggi in una casa, dicendo ai proprietari, pace a questa casa, se quelli vi accolgono rimanete in quella casa mangiando quello che vi servono. Poi istruite gli abitanti di quella casa, i parenti, e passate la voce di modo che la parola di Dio si diffonda a tutta la città per mezzo di vostro. non passate di casa in casa. E questo era il modo di evangelizzare che Gesù usava, quello della trasmissione della fede da persona a persona, non semplicemente raccontando fatti o discorsi sentiti, ma quando il fuoco si accende a sua volta può accendere un altro fuoco, così la fede quando è entrata ed è maturata, porta a tutti il dono della grazia di Dio. Perciò l'evangelizzazione fatta dai primi apostoli è una evangelizzazione che andava diretta al cuore della persona, come anche tu fratello, sorella. Puoi evangelizzare, non c'è bisogno che conosca tante cose. La prima cosa che tutti dobbiamo conoscere è che Dio ha rimesso i nostri peccati. Allora tu, marito, dillo a tua moglie, ma con convinzione che Dio ha perdonato i suoi peccati. Tu voglio dillo a tuo marito, anche se non che sembra che non sia credente, ma diglielo. Fagli sentire la flata dell'amore, perché il Vangelo porta dentro sé un'armonia, una bellezza, una potenza, una grazia. Signore Gesù, tu ancora oggi continui a chiamare discepoli che porti nella tua parola. Tu vuoi che ogni cristiano diventi un evangelizzatore, che chiunque ha ricevuto il dono della fede a sua volta lo partecipa ad altri che non l'hanno avuto. San Barnaba si prodigò anche andando all'estero a quei tempi pur di annunciare la parola di Dio come se tutti gli altri apostoli si sparsero nel mondo per annunciare la parola e tanti sono arrivati alla fede. Ravviva questo dono nella tua chiesa oggi, perché tutti abbiano a dedicarsi con tutto il cuore all'avvento del tuo regno, tu che vivi al regno per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, oggi tu vivi nella gloria al figlio tuo Gesù Cristo, ma continui in tante maniere, in tanti posti di questo mondo ad annunciare la parola, a suscitare la fede, a convertire i cuori, a operare prodigi, perché la fede del figlio tuo sia radicata nel cuore di tanti e sia vissuta pienamente detto talmente secondo il comando di Gesù che vuole che a tutti sia annunciato quello che lui ci ha insegnato, insegnate loro ad osservare tutto ciò che io gli ho comandato. Tu che sei la madre degli apostoli, la regina degli apostoli, guida tutti noi a vivere da apostoli nelle tue mani materne per glorificare il figlio tuo Gesù Cristo, per annunciare, comunicare la sua grazia, la sua vita a quando ascoltare il Vangelo, a Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il Signore, fratelli, facci di voi degli autentici apostoli. Non guardate ciò che sapete fare, guardate ciò che il Signore sa fare attraverso di voi. Amen.